breve aggiornamento dopo che mi si era srotolato tutto il nastro sono arrivato al confine più a sud est del terreno però qui adesso non ci capisco più nulla nel senso che ho fatto alcune foto con l'aiuto di google maps e i pali della luce sono laggiù ce n'è uno proprio qua lo intravedo ma il terreno mio però rispetto a un certo punto sale mentre i pali della luce continuano per una linea retta per cui adesso non capisco il mio terreno effettivamente fin dove arriva e qui adesso vedete sono al punto dove il fosso si dirama ci sono due diramazioni allora qual è quella giusta mia è questa qui è questa qui che va di là o è questa qui che va di qua chi lo sa qui c'è legna accatastata da decenni tutta marcia ormai non si sa di chi sia e quindi qui veramente non so qual è adesso la mia porzione perché di là per esempio questo pezzo che c'è qui di fronte è un bel pezzetto piano quindi a livello di campeggio lo si potrebbe sfruttare però non so se è mio allora io adesso riscendo giù di qua piano piano vado a guadare il fosso oppala perché questo è una bella zona qui dove poter fare qualche piazzola però adesso non vedo il palo della luce ma era giù di là da qualche parte perché uno è là uno è giù là mi sa che faccio un'altra foto da google maps anche qui in modo da capire anzi vado fino qua su in modo da capire qua dove sono andiamo fino qui su dove piano poi rientro alla base perché sono già le nove e mezza ok 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 allora se io adesso vado giù di qua in teoria dovrei trovare la strada che ho fatto perché questo è il fosso che va giù un po' di qua in teoria dovrei trovare la strada che ho fatto perché che ho fatto perché qua il fosso dove cacchio è sparito non c'è più il fosso qua allora vediamo cosa mi dice ma che strano io dovrei essere qui no sono completamente diverso perché io sono venuto su di qua non ci capisco proprio più niente allora adesso io taglio dentro di qua e vediamo in teoria dovrei arrivare al posto dove ho fatto tutti i segni non ci capisco oddio oh qua comincio a vedere delle tracce umane allora qui adesso dove sono ok allora qui adesso sono praticamente nel punto dove ho fatto alcune piazzole e qua c'è la strada che va in su ok stamattina ho disegnato la strada che va in su ok stamattina ho disegnato la strada che va in su ok allora adesso effettivamente me ne torno a casa ok questa dovrebbe essere una piazzola queste sono le piazzole di sotto e queste sono le piazzole in su ok allora io taglio giù di qua la faccio un po' più corta ok ok bene qui c'è il disegno praticamente della strada qui c'è il disegno allora adesso il cellulare effettivamente non mi serve più perché qui ci sono già stato bene allora adesso scendiamo giù allora 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 bene siamo arrivati praticamente alla zona d'ingresso di quello che sarà il camper park querceto bene metto via i guanti ok adesso qui non mi servono più tolgo anche il caschetto bene siamo ritornati al punto di partenza per adesso è tutto torno a casa ci vediamo più tardi ciao ciao in chiusura vi chiedo di lasciarmi il like pollicione in su se il video ti è piaciuto e di lasciarmi qui sotto dei commenti con consigli dritte e anche critiche purché costruttive in quanto questo rende più ricco il canale e più interessante i contenuti anche per altri utenti che magari possono trovare delle risposte anche ai loro quesiti leggendo i vostri consigli è tutto completamente gratuito e a gratis anche l'iscrizione al canale che mi piace e anche questa serve tantissimo per far crescere il canale quindi se non l'hai ancora fatto iscriviti e infine ti chiedo anche di dare un'occhiata a questi due video bellissimi grazie mille è tutto ci vediamo alla prossima ciao